A differenza degli anni passati la mappa delle attività commerciali di Montesilvano diventa digitale, uno strumento importante per la città che darà un servizio in più al turista, ovvero trovare le proprie necessità con un clic. Il portale è stato finanziato completamente dall'Associazione Commercianti Montesilvano nel cuore con l'appoggio di Confesercenti Abruzzo ed il patrocinio del comune. Le attività che volessero entrare a far parte della mappa digitale possono farlo gratuitamente, basta soltanto essere iscritti all'associazione. Ad oggi sono già 30 le attività inserite. È un sito con la mappa della città di Montesilvano diversificato per tipologia di prodotto, oltre che vedendo la cartina, le piantine di Montesilvano, potranno accedere al bisogno che ogni qualvolta avranno, quindi negozi di scarpe, ristoranti, bed and breakfast, hotel, piuttosto che tanti altri servizi. È un'iniziativa completamente finanziata dall'Associazione Montesilvano nel cuore e dai commercianti che ha messo a disposizione di tutte le attività presenti sul territorio che non dovranno pagare nulla se non essere iscritti all'Associazione Montesilvano nel cuore e quindi contribuendo così alla crescita dell'associazione. È un progetto che è partito già due anni fa e l'abbiamo sempre sviluppata in chiave cartacea, adesso un po' nell'ottica della modernità e anche nell'ottica dell'ecologia, quindi tutta una serie di concetti che portiamo avanti e si è decisa di farla in chiave digitale, quindi molto facile sia per il consumatore, cioè per il turista o anche il cliente di Montesilvano e anche per chi deve inserirsi perché è facilissimo anche da, diciamo, un modo anche per interagire in maniera molto veloce. All'interno della mappa ha anche una componente attrattiva con musei ed eventi estivi. Prossimo passo, implementare l'app con strumenti ufficiali del comune così da rendere più appetibile possibile la città. Noi siamo già in questa direzione, puntiamo agli strumenti digitali, già da un po', noi siamo usciti già con la guida multimediale turistica che è in digitale e questo è uno strumento che va ad implementare tutte le attività che noi stiamo già intraprendendo. Ora il nostro ruolo sarà quello di fondere queste attività in una sinergia di intenti, in una sinergia di lavori ed idee.